Avevano emesso fatture per operazioni inesistenti per un importo di oltre 4 milioni e mezzo di euro, ma sono finiti nel mirino della Guardia di Finanza. La complessa attività investigativa delle fiamme gialle di Bassano del Grappa ha portato alla confisca di beni per un importo di circa 370 mila euro nei confronti di un bassanese, di un uomo di Riese Piodecimo e di un vicentino coinvolti nella gestione, di fatto, di una società di capitali e di tre ditte individuali. Nei giorni scorsi, in esecuzione delle sentenze emesse dal Tribunale di Vicenza, divenute irrevocabili e che hanno disposto la condanna dei tre imputati, la finanza ha dato esecuzione alla confisca in via definitiva, da parte dello Stato, di due appartamenti di pregio e due relative pertinenze nel comune di Cassola. Si tratta di beni formalmente intestati a una società in una comandita semplice, ma in realtà nella disponibilità di una delle persone coinvolte.